A Teramo dopo il rinvio dell'approvazione della revisione PEF relativo allo stadio Gaetano Bonolis ora scende in campo la neonata Teramo protagonista, lista civica capeggiata dal consigliere di opposizione Ivan Verzilli e lo fa promuovendo una petizione popolare con al centro proprio il piano economico-finanziario presentato dall'imprenditore Franco Iachini al Comune di Teramo per rivedere i termini della concessione del Bonolis. La finalità è quella di portare la petizione all'attenzione dell'amministrazione raccogliendo almeno 250 firme. Abbiamo voluto fortemente fare questa petizione in fretta e in furia proprio perché credevamo stessimo proprio con i tempi stretti poiché non sapevamo se in realtà la maggioranza volesse rifare, volesse indira un consiglio comunale all'ultimo momento ma ad oggi crediamo non ci siano i margini per quanto riguarda le tempistiche. Beh, ai sensi dell'articolo 81 del regolamento dei diritti e doveri per quanto riguarda la cittadinanza attiva approvata appunto da questa maggioranza, noi abbiamo voluto indire una petizione per coinvolgere la cittadinanza in senso consuntivo proprio perché questo è un argomento talmente cruciale, talmente importante, che credo sia stato veramente superficiale volerla portare in discussione solo dopo tre giorni di argomentazioni votarla in consiglio comunale. La raccolta firme per la petizione è presente all'interno di stragrande maggioranza delle attività commerciali di Teramo, siamo partiti già da ieri mattina, abbiamo avuto una larga adesione e comunque è una misura che ci dà la consapevolezza per poter discutere sempre più approfonditamente di questa tematica che crediamo sia troppo fondamentale per Teramo, la comunità di Teramo e la cittadinanza sportiva che ama la Teramo Calcio. Ma questo non rischia un po' di allungare ancora di più i tempi? A nostro avviso non è importante questo, proprio perché stiamo decidendo un qualcosa che andrà avanti per 60 anni, quindi crediamo che debba essere ponderata la decisione, i tempi devono essere maturi, quindi dobbiamo essere consapevoli del voto e se chiaramente bisognerà portare delle modifiche da parte delle minoranze siamo d'accordo, siamo predisposti e proattivi per una concertazione, una condivisione, ma volerlo approvare in fretta e in furia è dai responsabili.